Un cordiale saluto ai tanti telespettatori di Lucanette Web TV, rieccoci insieme per una nuova edizione del nostro TG. Oggi ci occuperemo di sanità, poi di cronaca turismo e sport. Partiamo con una scheda sulla sanità lucana curata dalla nostra Rosa Maria Mollica. Ascoltiamo. L'osservatorio civico sul federalismo in sanità presentato a Roma da cittadinanza attiva ha messo in evidenza un sistema sanitario italiano frammentato. Liste d'attesa ha problema comune in tutto il territorio. Il sud invece arranca su screening oncologici e consumo di farmaci equivalenti. Le coperture vaccinali sono insufficienti invece in quasi tutto il territorio. In questo quadro la Basilicata si presenta come una regione che procede a rilento sulle cure delle patologie croniche, ma si difende invece abbastanza bene per ciò che riguarda vaccini e la trasparenza delle liste d'attesa. La nostra regione, così come la Campania, la Sicilia e la Sardegna, non ha ancora recepito infatti il piano nazionale di cronicità mirato a migliorare l'assistenza alle persone affette da patologie croniche. A tal proposito, l'assessore regionale Rocco Leone ha dichiarato Faccio rilevare queste criticità per fotografare lo stato di salute in cui versa il sistema sanitario che abbiamo ereditato, ma anche per richiamare tutti i soggetti istituzionali in campo, opposizione compresa, una comune azione di responsabilità per rilanciare il comparto nell'interesse esclusivo dei cittadini, abbandonando la logica dei campanili e la difesa delle rendite di posizioni. Su 16 regioni analizzate emerge che tutte sono dotate di un'anagrafe informatizzata per i vaccini in età pediatrica, ma solo in poco più della metà dei casi copre l'intero territorio regionale. Nel 34% dei casi manca invece un'anagrafe informatizzata per le fasce di età adulto-anziano e solo nel 14% dei casi i medici di medicina generale vi hanno accesso. Sebbene siano registrati incrementi generalizzati nella percentuale di bambini che sono stati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie, un percentuale superiore al 95% è stata raggiunta soltanto da Abruzzo, dalla nostra Basilicata, da Calabria, Campania, Lazio, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana ed Umbria. Bene, e adesso invece passiamo a Melfi, dove ci sono polemiche per la Sagra della Varola, questa volta del parroco della cattedrale. Sentiamo perché. Certo, non entro in merito alla questione, all'organizzazione, però ci sono alcune cose che secondo me si possono migliorare con un niente, cioè che non esigono niente, evitare di mettere un palco proprio appiccicato alla Chiesa, con il numero di persone che entrano, non parlo solo durante la messa, diciamo ma noi non suoniamo durante la messa, che mi interessa? Cioè il numero di persone che entrano in cattedrale, che pure una guida che vuole parlare a loro ha questo rimbombo della musica legittima per chi vuole sentire la musica, sono due anni che chiedo mettetelo da un'altra parte, che è possibile, non succede niente. Almeno il palcoscenico, almeno il palcoscenico. La festa dell'assunto lo si mette dall'altra parte. Poi l'arrembaggio, guardatelo se ancora sono passati cinque giorni ma ci vorrà del tempo, come è ridotta la scalinata della cattedrale. Io mi chiedo un turista che viene dal giorno dopo, non solo quel giorno, quel giorno non si vede niente perché è occupato, dal giorno dopo, ma così ci presentiamo noi. Questo è il biglietto da visita per i turisti. La cattedrale è il castello. Non credo che al castello si consente di fare tutto quell'arrembaggio di gente che butta a terra. Sì, poi il giorno dopo si è venuta a pulire, ma togliete le macchie di olio e di altre cose che stanno sulla... Non si può inventare che questo spazio sia uno spazio culturale, anche quel giorno, che sia uno spazio dove i bar mettono i tavolini, dove la gente si siede, e dove si può proiettare, per esempio, quello che è stato proiettato in occasione del millenario, delle mura. Cioè, perché non dobbiamo salvaguardare? Tutto deve essere destinato quel giorno al consumo, all'arrembaggio, perché poi ci sono le persone in civile. Le chiedete a chi abita vicini, con quelli che lasciano poi sporchi per i bisogni che fanno le entrate delle case. Fatevi raccontare dalla gente. Io credo che si possa inventare qualcosa di nuovo. Dove sta scritto che bisogna rifare sempre quello che si è fatto. Appello condivisibile, appello legittimo, appello civile, che va rivolto, Don Vincenzo a questo punto, a prologo e amministrazione comunale che organizzano l'evento. Certo, io già personalmente queste cose le ho già dette. La mia, sia chiaro, non è nessuna presa di posizione, una battaglia contro. Credo che sia a favore di Melfi, perché noi dobbiamo dare un biglietto da visita, che non è solo guadagniamo quello che guadagniamo quella giornata con le persone che vengono, ma noi dobbiamo presentare la nostra città agli altri. E io racconto sempre, adesso indipendentemente dalla sagra, della varola, se voi andate a Bergamo, nella piazza principale di Bergamo, sembra un salotto, voi vi potete sedere a terra. Noi così dovremmo presentare. E non parlo come parlo con la cattedrale, perché a me non interessa, a me interessa l'incontro con Dio, non i monumenti. Però credo che una sensibilità ce l'abbia anch'io. E questa sarebbe una bella cartolina di Melfi da presentare proprio quel giorno alle migliaia di persone che vengono. Rimaniamo in tema. Sabato, domenica prossima, è il weekend della falconeria a Melfi. Mai tanti turisti che arriveranno e che sono già arrivati, in verità, la scorsa settimana per la varola, non hanno potuto visitare la magnifica cripta di Santa Margherita. Allora, sentiamo in questo servizio perché. È appena terminato a Melfi il fine settimana della varola e si sa che la sagra è soprattutto cibo, vino e castagne. I visitatori sono arrivati a migliaia. E tra i tanti qualcuno avrebbe avuto piacere di visitare, oltre ai più conosciuti monumenti melfitani, anche la splendida chiesa rupestre di Santa Margherita, con l'affresco del Monito ai Morti e l'effigie di Federico II, probabilmente l'unica veramente attribuibile all'imperatore con lo sguardo rivolto al suo castello in festa. La visita è possibile solo su prenotazione, in orari indicati, e previo pagamento di un signor biglietto, contattando la proloco della cittadina normanna a uno dei quattro numeri di telefono indicati. Peccato che, nonostante la lunga lista di numeri da contattare, nessuno abbia risposto. Numeri irraggiungibili o inesistenti, ne è affissa una qualche comunicazione di sospensione delle visite. Di fatto, pur arrivando alla porta della cripta, la visita è impossibile. Peccato per il grande sforzo della soprintendenza che ha rivalutato questo grande patrimonio. Una grande occasione perduta, con una platea enorme di potenziali visitatori, la maggior parte dei quali ne ignoravano anche fatalmente l'esistenza. Doppio sarebbe il monito ai morti, dentro, ai vivi, non sufficientemente attenti, fuori. Bene, lo sport in chiusura. Il Melfi, sul neutro di Matera, affronterà il pomarico nella decima giornata del campionato di eccellenza a Lucano. Sentiamo il tecnico dei gialloverti. Ma no, dai. Il Melfi deve arrivare dove si è prefissato. Cioè, una salvezza prima possibile, deve far crescere qualche ragazzo. Non è che una vittoria deve far cambiare gli obiettivi. Non è solo quella. Insomma, ci sono tutte le vittorie in casa. C'è una sconfitta immeritata. Due sconfitte arrivate contro le prime della classe immeritate. La cura natale inizia a farsi sentire. Questa squadra prende sempre più la forma voluta dal tecnico. Ti ringrazio per i complimenti. I ragazzi sono bravi. Qualunque allenatore che ci sta su questa panchina, con questi uomini, perché sono veramente ragazzi che danno il 200%, farebbe bene. Non hai avuto coraggio però ad agosto di arrivare in una società che non aveva squadra. Eh, vabbè, coraggio. Il coraggio ti viene. Con una piazza così, sì. Sembrava quasi un salto senza paracadute, però io non ho mai avuto paura in vita mia. Da questo punto di vista ero certo di promettere la salvezza e lo ribadisco. Secondo me... Adesso è un po' poco la salvezza con questa squadra che va così bene. Magari arriveranno, sicuramente, arriveranno anche momenti negativi, però insomma se hai la sensazione che Melfi possa ammire qualcosa di più, Natale sta assemblando davvero un'ottima squadra. Non so se possiamo ammire di più. Noi dobbiamo stare con i piedi per terra. Poi se arriva qualcosina in più ce la prenderemo. Non è che noi lavoriamo tutte le settimane per cercare di fare il meglio possibile, però l'obiettivo è arrivare a 33-34 subito e poi in modo da loro di giocarsi le partite con più tranquillità e la società di programmare per l'anno prossimo, spero, una stagione un pochino diversa. Ultima domanda, prossima partita ancora una trasferta. Sì, andiamo a Matera che è un allenatore pluridecorato come Delisandi, quindi è una partita difficilissima. Mi dicono che è una squadra che gioca molto bene, che sta raccogliendo... Come bene gioca il Melfi? Beh, questo non lo so. Io faccio l'allenatore, lo devono dire gli altri se giochiamo bene, però il pomarico sta raccogliendo veramente poco per quello che ha seminato e quindi timore c'è. Sinceramente sarà una partita molto difficile. Sicuramente avremo delle grosse difficoltà perché loro devono fare i punti per tirarsi fuori e dobbiamo vedere come si mette, però. Era l'ultimo servizio, vi ringrazio per la cortese attenzione. Vi ricordo che ci troverete sulle principali piattaforme social, dunque soprattutto su Facebook e su Instagram. Io vi saluto e ci risentiremo per la prossima edizione del nostro notiziario.